Finalmente siamo arrivati oggi al 28 luglio 2016, 24 settembre 2016 in compagnia degli sposi due carissimi amici miei Giovanni ed Enrica che ho... Anche no, noi ci siamo. Luigi e Maria, Luigi e Maria del... Non siete Luigi e Maria? No, erano quelli 10. Ma non ho sbagliato il matrimonio, mi vengo! Grazie a tutti